Ciao ragazzi questo è un video che faremo con mini world, è la prima volta che vi mostro un mini world Aspetta un secondo che ti mettiamo La prima volta che vi mostro un mini world mi potremmo molto ammazzarato Allora potremmo giocare una mappa di WP oppure possiamo giocare anche... Facciamo un parkour per la prima volta che facciamo un video Io lo vorrei ammazzare come un parkour Allora, 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 allora Quante volte ho detto allora? Va bene, andiamo bene Proviamo a fare... ovviamente voi nei commenti mi potete anche dire tipo Fai quella mappa oppure fai quell'altra mappa Allora, visto che è molto brutta la situazione Lo so che fa un po' paura Mi metto in single player così non ci sto Andiamo bene ragazzele Comunque qui 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 Vado, non si apre la cassa Non vado No, questo è un parkour perché c'è tanto quelli che ti vogliono Quelle cose che vogliono Che ti vogliono Ma tanto C'è proprio Desire Gli stretti sono molto brutte le scine Quanti ho messo No, scusate ho dovuto stoppare un secondo Va bene Allora Continuiamo Allora se Vi potete Mischiarare il canale mi potete andare anche Sul mio sito Porco schifo No Secondo voi? Vabbè Di certe volte controllo quando sta durando il video Perché non posso farlo in un documento Non so cosa Va bene Il nostro massimo Facciamolo in 10 minuti Vabbè Allora potete Entrare anche Aspetta Cretino, cretino Non dovevo farlo Allora Andiamo bene Ragazzi Andiamo molto bene Allora So che questa mappa Ti sta un po' annoiando Perché non ci sono Neanche Molto brutta Però È molto divertente Cioè È molto divertente Fare tutte cose A parte che Così Guarda Quanto mi vuole È assapura Vieni No Vieni Ma è cretino Non mi vede Vabbè Allora Lo so che non ci sono dei miei amici Quindi è abbastanza famigliosa questa mappa Però Ovviamente Dopo ve li farò vedere Perché Però Se mi mettete Un canzone E li scrivete Magari Io potrei farvi vedere Quindi Vabbè Vi scoglierò Se Mettete Tantissimi Like Io Vi faccio vedere La faccia di Giorgio Anche senza Contro la sua volontà Ve la faccio vedere Basta Accettate la sfida Allora Il video sta quasi per finire Allora Quindi vi Potrei dire Andiamo a cercare questa mappa Perché mi fa veramente schifo Non ne voglio più parlare Allora Quindi Voi Avete capito cosa fare Cliccate Iscrivetevi E mettete un bel mi piace Se potete Uniche due cose che vi chiedo Guarda se mettete Per me va bene anche se vi scrivete Per me va bene Perché Cioè E' bello anche Allora Ora mettiamo qua Faremo Diverse mappe Cavolo Faremo diverti mappe E Faremo diverti mappe E niente E mi hanno Levato la mappa Che cosa triste Che cosa triste Ops Facciamo così Aspetta che sto entrando Che lo pago con il giga io Perché mica so Oh Che cosa succede E' bello che ci sono Che cosa succede Che cosa succede Che cosa succede Ops Che cosa succede non fa niente guardate scusate il cuono è stato di tutti quando sto controllando una cosa, va bene perché voi non mi vedete io faccio cose mentre voi state vedendo il video ovviamente ne vedranno pochi perché il mio nome non è tanto comune e bello però andiamo bene io sto prendendo una raccolta di frecce vabbè scusate oh sto andando quasi, almeno quasi finito, va bene guarda se volete che io che io visiti questa mappa a parte che devo scrivere i miei commenti e a parte quello che porco schifo cos'è sta feccia una figata che vi sono i miei bonus veramente veramente per farci esplodere vabbè aspettate aspettate ciao e nel prossimo video ci vedremo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo